Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di economia. Nei giorni scorsi è stato approvato il documento di economia e finanza regionale e soddisfatto. Renato Schifani, la Sicilia, dice il governatore siciliano, cresce grazie al mio governo. Ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. Confermato il trend di crescita del PIL della Sicilia anche per il prossimo triennio, seppur a un ritmo attenuato per via delle difficoltà del quadro economico e politico internazionale ma comunque in linea con il dato del Paese. E questo lo scenario delineato nel documento di economia e finanza regionale 2025-2027 approvato a Palazzo d'Orleans dall'Aggiunta Schifani che traccia le linee guida e gli obiettivi da perseguire nell'azione di governo per lo sviluppo dell'isola. Secondo le stime, da una crescita dello 0,7% del PIL siciliano per il 2024, si dovrebbe passare all'1,1% nel 2025, allo 0,9% nel 2026 e allo 0,8% nel 2027. Si prospetta un miglioramento di tutti i principali indicatori economici grazie ai cospicui investimenti programmati con fondi regionali, nazionali ed europei e alle politiche del governo siciliano per il sostegno delle imprese e l'accelerazione della spesa. Il DEF, dice il presidente della regione Renato Schifani, parte da un dato molto confortante certificato nei giorni scorsi da Svimez, secondo il quale la Sicilia è la regione che ha registrato la crescita maggiore nel 2023 con un incremento del PIL pari al 2,2%. Il mio governo intende proseguire nell'azione di sviluppo del contesto economico attraverso un utilizzo ottimale di tutte le risorse disponibili. Il potenziamento delle infrastrutture, oltre a consentirci di impegnare le risorse europee, quelle del PNRR e dei fondi di sviluppo e coesione, pone le basi per l'ulteriore crescita del nostro territorio. Sosterremo, aggiunge il presidente, il settore dell'agricoltura oggi in grosse difficoltà ma che rappresenta una voce fondamentale della nostra economia, così come proseguiremo il percorso al fianco delle imprese grazie alla velocizzazione della spesa e dei pagamenti. Continueremo inoltre l'azione di risaramento dei conti della regione. Abbiamo già ridotto il disavanzo grazie all'aumento delle entrate tributarie, dati che sono la diretta conseguenza della ripresa economica e delle imponenti iniezioni di liquidità che abbiamo realizzato nel mondo produttivo dell'isola. Siamo sulla strada giusta per invertire definitivamente la rotta e puntare finalmente allo sviluppo della nostra Sicilia. Tra gli obiettivi contenuti nel documento c'è anche il riassetto organizzativo dell'amministrazione regionale attraverso piani assunzionali per la copertura delle carenze di organico e di competenze specifiche. Un processo già in corso grazie alla revisione delle regole sul turnover contenuta nell'accordo con lo Stato firmato dal governo Schifani il 16 ottobre 2023. Il risultato atteso è il rafforzamento della capacità amministrativa coniugando il ricambio generazionale con la valorizzazione delle risorse interne unitamente all'attuazione di processi di semplificazione delle procedure. Parliamo adesso dell'aeroporto di Catania. La SAC, ovvero la società che gestisce lo Scalo Etneo ma anche l'aeroporto di Comiso, ha approvato il bilancio 2023. L'utile netto è superiore a 3 milioni e per quanto riguarda il numero di passeggeri c'è stato un importante incremento nell'aeroporto di Catania. Ma per tutti i dati vediamo il servizio. L'Assemblea dei Soci di SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio relativo al 2023 che si è chiuso con un utile netto di esercizio di 3 milioni 309 mila 303 euro. Lo scorso anno la società ha effettuato investimenti in autofinanziamento per oltre 10 milioni di euro. Il margine operativo lordo è superiore ai 15 milioni 540 mila euro, mentre il valore della produzione supera abbondantemente i 103 milioni di euro. La posizione finanziaria netta dell'aeroporto alla fine del 2023 è positiva e ammonta a 46 milioni 656 mila 787 euro. Questo dato riflette la solidità finanziaria dello scalo e la capacità di affrontare situazioni di emergenza senza compromettere la stabilità economica a lungo termine. Nonostante infatti la 2023 sia stato caratterizzato da eventi straordinari che hanno inciso sull'operatività dello scalo e sugli indicatori economico-finanziari, l'aeroporto di Catania ha beneficiato di una forte domanda di traffico che ha consentito di registrare un incremento del 6,34% del numero di passeggeri rispetto all'anno precedente. Il traffico passeggeri totale per il 2023 è di 10 milioni 739 mila 614 unità, evidenziando la resilienza dello scalo e la sua importanza strategica per Catania e per l'intera regione. Sullo scalo di Comiso, spiega la SAC, si sono invece registrati 303 mila 414 passeggeri in flessione del 16,81% rispetto al 2022 per effetto della interruzione delle operazioni di volo di un importante player internazionale. Aspetto recuperato negli ultimi mesi dell'esercizio 2023 grazie alle numerose compagnie aeree che hanno deciso di investire nello scalo ibleo, operando 16 rotte tra nazionali e internazionali. In prospettiva, si legge in una nota della SAC, i fondi di sviluppo e coesione recentemente approvati dal presidente Schifani e dal governo nazionale e destinati agli aeroporti di Catania e Comiso per un importo di 56 milioni di euro, daranno un significativo impulso per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali della Sicilia orientale. Anche lo scalo di Comiso sarà in grado di gestire un flusso di passeggeri sempre più numeroso, offrendo servizi di qualità e ponendosi come infrastruttura ancora più strategica per un territorio in forte crescita. Parliamo adesso di un recente studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sull'Etna e sullo Stromboli, due vulcani più esplosivi per la composizione del magma. Vediamo il servizio. I vulcani Stromboli ed Etna possono eruttare in modo più esplosivo a causa di minime variazioni nella composizione chimica del loro magma. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications Art and Environment, condotto da un team multidisciplinare di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università Roma 3 e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le concentrazioni di elementi chimici come titanio e ferro influenzano il comportamento del vulcano, spiega Fabrizio Di Fiore, ricercatore e primo autore dello studio. Queste variazioni chimiche, aggiunge, determinano la formazione di cristalli nel magma che ne aumentano la viscosità e la capacità di intrappolare le bolle di gas. Se le bolle non riescono a sfuggire, si accumulano nel vulcano, aumentando la pressione e favorendo eruzioni esplosive. Il nostro studio, afferma invece Alessandro Bona, vulcanologo dell'Università Roma 3, rappresenta un passo avanti nella comprensione del trasporto del magma che determina lo stile eruttivo. I magmi basaltici, come quelli di Etna e Stromboli, tendono a produrre eruzioni effusive, ma la nostra ricerca spiega perché si verificano eventi esplosivi. L'interazione tra vulcanologia e scienza dei materiali, sottolinea Danilo Di Genova, ricercatore dell'Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha permesso di evidenziare che anche piccole variazioni nella concentrazione di ferro e titanio del magma possono influenzare il comportamento dei vulcani. Questo perché alcuni magmi riescono a solubilizzare con grande efficacia questi due elementi, mentre altri magmi tendono a espellerli rapidamente sotto forma di cristalli. I risultati dimostrano l'importanza degli studi sperimentali in vulcanologia e petrologia per migliorare la nostra comprensione dei vulcani, conclude Pier Giorgio Scarlato, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e coordinatore del progetto sul vulcanismo esplosivo dello Stromboli, nel cui ambito è stata condotta la ricerca. La prossima fase dello studio prevede di collegare le osservazioni sperimentali ai processi naturali, con l'obiettivo di sviluppare modelli predittivi delle eruzioni vulcaniche su base probabilistica. Questo lavoro contribuirà a migliorare lo studio delle previsioni delle eruzioni vulcaniche in relazione alla sicurezza delle comunità che vivono vicino. Parliamo adesso della crisi idrica che sta colpendo la Sicilia. Nuovi interventi della regione siciliana, interventi per quasi 19 milioni di euro sulle reti irrigue nel Palermitano e nel Trapanese. Le parole della governatore Schifani che dice lavoriamo per risolvere le criticità. Interventi sulle reti irrigue nel Palermitano e nel Trapanese per quasi 19 milioni di euro. Questo l'ammontare delle somme che finanziano due bandi di gara pubblicati rispettivamente dal Consorzio di Bonifica di Palermo e da quello di Trapani. Contro la siccità, ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani, interveniamo per dare risposte concrete al settore agricolo utilizzando sino in fondo le risorse nazionali a disposizione. Dobbiamo impiegare al meglio l'acqua disponibile e ridurre perdite e sprechi. Lavoriamo senza sosta, ha aggiunto il governatore, al fianco degli imprenditori agricoli per risolvere criticità che esistono da troppo tempo, a modernare e rendere più efficienti impianti e reti irrigue nelle nostre campagne, servire più porzioni di territorio, ridurre i consumi e garantire anche l'ambiente. La prima delle due gare per un importo complessivo di 9,99 milioni oltre IVA su finanziamento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste riguarda l'affidamento dei lavori necessari per utilizzare integralmente le acque del serbatoio di Garcia sul fiume Belice nel Palermitano. Si tratta del primo lotto funzionale per la manutenzione straordinaria della distribuzione irrigua del comprensorio Dagale-Renelli, intervento necessario a causa del deterioramento delle infrastrutture esistenti in esercizio da oltre 30 anni. Sarà ripristinata la funzionalità dell'impianto grazie al rinnovamento delle apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e di altre parti di condotte e strumentazioni irrigue che servono oltre 100 ettari di terreni. Il secondo bando, per un importo di 8,7 milioni oltre IVA, anche in questo caso su finanziamento del Ministero dell'Agricoltura, mira al rifacimento della rete irrigua della conca del fiume Delia in territorio di Mazzara del Vallo nel Trapanese. Il progetto prevede di adeguare la rete di distribuzione per ridurre le perdite e renderla più efficiente grazie all'impiego di strumentazioni di telecontrollo gestite da remoto dal consorzio di bonifica e il rifacimento di tratti di vecchie condotte per circa 140 chilometri. Parliamo ora di uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una sorta di report che ci dice che nel mondo una persona su tre non fa abbastanza attività sportiva. Vediamo il servizio. Complessivamente nel mondo una persona su tre, 1,8 miliardi pari al 31% della popolazione mondiale non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica. Il numero delle persone sedentarie è in costante crescita e si prevede che raggiungerà il 35% della popolazione entro il 2030. E' quanto ha evidenziato uno studio coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista The Lancet Global Health. L'inattività fisica è tra i principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, il diabete, i tumori e la demenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti di svolgere 150 minuti di attività fisica di intensità moderata o 75 minuti di attività fisica di intensità vigorosa a settimana. Nella realtà questi livelli vengono raggiunti da poco meno del 70% della popolazione mondiale, con forti differenze tra le aree del pianeta. I più sedentari sono i cittadini degli stati ad alto reddito dell'Estremo Oriente, Giappone, Corea del Sud e Singapore, con tassi di inattività del 48,1%. Segue il subcontinente indiano con 45,4%. Le regioni dove si svolge più attività fisica sono l'Oceania, dove solo il 13,6% della popolazione è sedentaria, e l'Africa sub-sahariana, con un tasso di inattività del 16,8%. Nei paesi occidentali ad alto reddito, tra cui figura anche l'Italia, è inattivo il 27,7% della popolazione, con un calo ininterrotto che si protrae da due decenni. Tra i dati emersi dal rapporto, anche una forte differenza di genere a svantaggio delle donne. È inattivo, infatti, il 34% delle donne contro il 29% degli uomini, con la forbice che in alcuni paesi supera i 20 punti percentuali. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie. Grazie.